Mi siamo Rosetti, dopo tre pareggi consecutivi la Virtus Carano torna alla vittoria. Che ne dice di questa partita qui a Marcianise? Sì, sicuramente i pareggi erano consecutivi, però tranne il primo tempo di sabato la squadra si è sempre espressa in modo adeguato, in modo pregevole. Sicuramente era importante più per un fatto mentale ritornare alla vittoria perché poi alla fine il calcio è fatto di entusiasmi, i ragazzi potevano cominciare ad avere qualche problemino mentale. Invece mi ha fatto molto piacere questo tipo di partita, soprattutto sul fatto che abbiamo giocato con tanti under in campo e poi con qualche cosiddetta seconda linea che poi alla fine nell'arco di un campionato sono fondamentali. Perché continuo a dire ai ragazzi che non esiste un primo o un secondo linea ma esiste una squadra che si deve allenare sempre al massimo e poter poi ognuno di loro essere chiamato in causa. A detta degli avversari la partita è cambiata quando è arrivata l'espulsione del difensore di Sorbo sull'azione che poi ha portato al rigore e al conseguente 1-1. È d'accordo con questa analisi avversaria? Sicuramente un uomo in meno poi fa la differenza, però comunque noi siamo stati colpiti a freddo su forse l'unica indecisione che abbiamo avuto nell'arco di tutta la partita. Io l'operato dell'arbitro non lo vado qui a giudicare, però secondo me il fallo di mano era netto sulla linea quindi non poteva fare altro che spellare il giocatore. Nella partita odierna avete fatto giocare i ragazzi che avevano avuto un minimo minutaggio rispetto agli altri che impressione hanno dato le prestazioni dei ragazzi che comunque hanno giocato meno fino adesso? Assolutamente, io continuo a dire loro che una squadra si chiama squadra proprio perché si è fatto di 22 elementi validi ed è fondamentale che tutti ci si allena al massimo, se si gioca per stare nel mio gruppo sia importante io ti reputo importante al di là se uno giochi, non giochi o va in tribuna ed è fondamentale che tutti si facciano trovare pronti perché nell'arco di un campionato serviranno tutti sicuramente è stato importante che chi è stato chiamato in causa si è fatto trovare pronto.